E daie, e daie E daie, e daie Va fami frettissimo, se vuoi puoi arrivare anche fino alla strada. E dai ci sono già i bicicletti, e dai, e dai. Questi sono quelli che abbiamo visitato un'altra volta. Quell'altra volta che siamo andati dai pompieri. Oh mio Dio! Ecco la boulogia per quelli feriti.